buongiorno e benvenuti da borsare strumenti musicali oggi sono molto contento di presentarvi questa tastiera yamaka pss a 50 come vedete si tratta di una tastiera piccolina col tasto piccolo 37 tasti equivalente a tre ottave sono molto colpito da questa tastiera perché è l'unica tastiera di queste dimensioni che offre la dinamica quindi la possibilità di suonare piano forte come farei con un vero pianoforte la tastiera è come ripeto molto compatta parliamo di circa 50 centimetri ed è una tastiera anche con funzioni di master quindi c'ha l'attacco usb per collegarsi al computer e poter gestire in formato midi i vari programmi che potremmo utilizzare inoltre ha anche delle funzioni da sintetizzatore tipo l'arpeggiatore vi faccio un esempio pratico e poi gli arpeggiatore ce ne sono diversi quindi diciamo una tastiera veramente completa i suoni sono uno più bello dell'altro quindi abbiamo sentito il piano guardiamo qualche organo vediamo i fiati tutti veramente la chitarra quindi bellissimo il fatto di poter avere una tastiera così compatta quindi può essere uno strumento adatto per l'utilizzo nella scuola media ed è l'unica veramente costruita così bene con dei suoni così belli ma diciamo che in questo caso la consiglio anche per professionisti che hanno bisogno di uno strumento compatto avere i propri suoni realizzati e lo puoi mettere nello zaino si tratta veramente di un prodotto veramente leggero io vi invito da borsare strumenti musicali a venirlo a provare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube di mettere il mi piace dei nostri video in modo da rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblicheremo mensilmente io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione grazie a presto grazie grazie grazie